Ancora Vigini con un po' di testa, vincente da parte di Soriano, anzi Silvestre! Zucanovic, alla fine abbiamo fatto chiarezza, è Zucanovic 2-0 la Sampdoria che in un minuto e mezzo ha stretto all'angolo il Verona e ha trovato il gozo e il raddoppio. Questo replay di tutta l'azione col cross dentro di Carbonero, non ci arriva Muriel, poi la rimette dentro ancora un'altra Soliano e Zucanovic che era lì ancora dal calcio d'angolo precedente, trova l'inzoccata vincente in tuffo e allora 2-0 Sampdoria al 29esimo minuto.